Un legno segnato dalla morte e dalla vita, con cui un artigiano, Maurizio Giglio, ha creato quello che dell'intreccio tra vita e morte è il simbolo, un crocifisso, realizzato con quel che rimaneva della barca di Cutro, le assi spezzate raccolte sulla spiaggia di Steccato, subito dopo il terribile naufragio. Ho realizzato questa croce con un solo braccio, Cristo inchiodato con un solo braccio, invece l'altro braccio del Cristo che non è inchiodato alla croce, ecco ho avuto come questa visione Cristo che sta tendendo il braccio a noi, all'umanità, nel senso di ravvederci un po', di essere un po' più umani verso tutti quanti, uno con gli altri. Essere più umani, perché ora manchiamo di umanità, ecco. Maurizio Giglio non avrebbe mai voluto realizzare un'opera del genere, lavorarla è stato duro. Toccavo quei legni e pensavo, chissà, magari qualche bambino si sarà aggrappato a questo pezzo di legno e non ce l'ha fatta. Ecco, questa è la cosa che mi fa star male. Il crocifisso è stato portato in via Cruci, sui luoghi del naufragio il 5 marzo, e da quel momento non ha più interrotto il suo pellegrinare. La croce è diventata una croce itinerante, una croce che sta facendo il giro di tutta la dioce, sia di Crotone e anche fuori. È una croce che non si fermerà. Sta per iniziare la settimana santa, in questo tempo in cui la passione e la morte di Gesù si fanno memoria, il crocifisso realizzato dai legni della barca spezzata a Cutro richiama le nostre coscienze.